Andiamo avanti con un altro mio amico, un personaggio eccezionale, direi paragnattico direttamente da Libero e dalle reti Mediaset, il mago di Mer Eccolo! Benvenuti, salve salve paragnattici Ecco la donna, recalcitrante Piacere, piacere il mago di Mer Recalcitrante Ecco, recalcitrante Ecco qua il mago di Mer, fantastico, come stai? Bene, grazie Due pazzi non battavano, mancava il terzo pazzo Eccolo qui, dunque, allora tenteremo subito un esperimento di paragnottico corno-cordologia Va bene, quindi A questo punto Aspetta, tu sei già partito Vediamo Come stai? A un parere Un passo da Roma Un passo da Roma Un passo da Roma Ecco qua Ecco ci siamo calmati, dicevamo Dicevamo, allora Farei un esperimento Un esperimento, mi serve la signorina Ecco, te parei Grazie Signorina Allora, sicuramente Ecco Sicuramente Pago solo per quello che hai detto Dunque, qui abbiamo un mazzo di carte Ti piacciono? Mi piacciono Chi è? Ti piacciono le carte? Perfetto, lo faremo un gioco con la corda Dunque, questa è una corda completamente corda Ecco, se puoi controllare per protesia E qui abbiamo le nostre forbici Completamente Forbici Bravo Ecco, allora Se puoi Ecco, giusto Allora Attenzione che recalcitra qui Ecco qua Le forbici Paragnatti Ancestrale Recalcitrante Ecco Mago di Mera Eccoci qua Ecco Perfetto, allora La corda non contiene botole Adesso Grazie Lo veramente volevo verificare Ecco Questa Se vuoi Magari puoi tagliare un pezzettino E vedere che la corda Così non parlo Perfetto Allora Adesso Che casino Dobbiamo avventare Nel sferimento Va bene Qui abbiamo una corda Anzi Tagli un po' Qua grazie Così vediamo che funziona Sì Perfetto Ecco Perfetto Ho tagliato su serio? Sì Adesso per cortesia Ecco qua Puoi tagliare la corda Sì Taglia veramente Taglia veramente Adesso Dobbiamo cercare di fare una cosa Per andare avanti col gioco Noi mettiamo questa sinistra qua Poi prendiamo questa destra qua Tentiamo il primo recalcito Attenzione Poi prendiamo questa qui La inseriamo qui Prendiamo quest'altra Facciamo di solito Prendiamo questo Prendiamo questo Adesso Ti metti in mente soffia Ecco qua E quindi il gioco Deve proseguire In questo modo Ma no Lago di me Ecco 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 Però Attenzione Attenzione Dobbiamo cercare di proseguire il gioco Adesso Posso dire una cosa Puoi Ah sì Senz'altro No Perché c'è nonna Angela Dicevamo prima da casa Che è lei Quindi rallentiamo Rallentiamo il gioco Allora adesso tentiamo Attenzione Tentiamo Tagliamo un pochettino la corda qui Grazie Pazzo Lui è un pazzo Qui Ecco qua Abbiamo tagliato un pochettino qua Grazie In modo che Sì esatto Adesso puoi Ecco Un attimino qua vicino Grazie Puoi tagliare così Guardate Così Anzi Fa una cosa Tieni Questa qui Taglia Anzi Fa una cosa Quelli Tieni tu Perché noi Proseguiamo Il nostro Recalcitra Adesso Adesso Dobbiamo cercare Di tagliarla veramente Perché se no Il gioco non può andare avanti È vero Allora attenzione Ecco qua Tagliato Perfetto Allora A questo punto Cerchiamo di Ecco Facciamo un bel nodo Ecco Nodo Piano 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 Ecco A questo punto Ecco qua Adesso andiamo a fare Un altro nodo qui Attenzione La magia La paraneoticologia Ecco Se puoi Gentilmente tagliare qui Perfetto Ecco qua Qua che devo fare Basta Puoi lasciare Grazie Mi lascia per te Non ti preoccupare Una scopa Per favore Ecco Attenzione Altro nodo Attenzione Puoi tagliare qui Gentilmente Questo è super paraneatico Ecco qua Attenzione Adesso Gentilmente Ecco qua I calli mi sono venuti Ecco qui Mi dovessi tenere la corda Con questa mano sinistra Grazie Perfetto Vieni qui al centro Adesso No no Devo prendere la corda Dov'è la corda? Scusa Ecco la corda Quindi a questo punto Al mio tre Devi soffiare Sui nodi Questo posso lasciare? Quello puoi lasciare Sì Te soffi Devo fare uno? No Al tre Devi soffiare sui nodi E no Non c'è rigu Devi un po' inchinare Soffi al tre Allora cambiamo Si scherza Un recalcito Uno Due Tre Soffi ancora forte Via Ecco qua Ecco qua Il primo recalcito È avvenuto Si è posato Nel posto giusto È recalcitrato Adesso Per cortesia Puoi leggere questo Adesso vediamo Se l'esperimento Norma Paragnattico Paragnattico Ancestrale È recalcitrato Cordo Pardo Corologia Allora Puoi soffiare Forte Ancora Ancora No scherzo Allora Facciamo una cosa Fai così Forse viene meglio Ecco Signori 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 Grazie Thank you Very much In l'idea Lei Mago di Mer È fantastico Grazie Anche voi Lei è fantastico E molto Super E accitrante Ancestrale Rendi Il Mago di Mer Grazie Carri Voi A presto Sì 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 Grazie a tutti.